Il Paradiso delle Signore, anticipazioni, trova Adelaide e Marcello insieme. Arriverà ben presto il momento di una triste verità per Ludovica nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nel mese di marzo 2023 su Rai 1. Del resto, la stessa Vanessa Gravina aveva annunciato grosse sorprese per Adelaide e così sarà. La contessa e Marcello Barbieri hanno stretto un rapporto speciale, iniziato sul piano professionale e poi sfociato in una passione travolgente. Che ha sorpreso entrambi? La situazione è delicata e niente sembra più sicuro. Ludovica ha notato la complicità che c'è tra il suo ex Marcello e Adelaide e non è rimasta certo contenta. Non nascondendo una forte gelosia che sta facendo preoccupare Ferdinando. Nello stesso tempo, Umberto soffre in silenzio davanti al legame ormai palese tra la contessa e Marcello. Che ha umiliato e preso in giro più volte al circolo. Sia Umberto che Ferdinando hanno unito le forze per mettere fuori gioco Barbieri. E non solo per non farlo diventare socio effettivo del circolo. Entrambi lo vedono come un personaggio scomodo e pericoloso per le rispettive relazioni. Le quali sono non così stabili come possono sembrare. Come svelano le anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle Signore. Adelaide capirà di provare qualcosa di più di una semplice e leggera passione per Marcello. Quando la loro relazione verrà alla luce, la contessa non si farà problemi a mantenere la sua linea e difendere l'uomo che ama. Vedremo Adelaide in una veste completamente nuova, capace di farsi vedere in caffetteria e persino a casa di Marcello. Pur di dimostrargli che non le interessa nella differenza di età e nemmeno i pettegolezzi che gireranno sul loro conto. A farsi dei problemi sarà però Marcello che, con il passare del tempo, si accorgerà che gli mancherà qualcosa o qualcuno e tutto porterebbe a Ludovica. Che non si è ancora tolto dalla testa, nonostante sia promessa sposa a Ferdinando. Nei prossimi episodi della SOP, Ludovica sarà la prima persona che scoprirà la relazione tra Adelaide e Marcello. La giovane brancia si reccherà a Villa Guarnieri e coglierà i due in un momento di passione. Ludovica aveva già il sentore che tra il suo ex e la contessa ci fosse qualcosa e presto ne avrà la prova. La ragazza a questo punto diventerà ancora più gelosa di Marcello e insofferente nei confronti di Adelaide. Il suo rapporto con Ferdinando, inevitabilmente, ne risentirà. Dall'altra parte ci sarà Umberto che, venuto a sapere della storia tra i due, inizierà a preoccupare Flora per il suo malumore davanti alla felicità dei due. Grazie a tutti. Grazie a tutti.